Anche quest'anno, come ogni anno, è fondamentale essere qui a Pontida, è fondamentale essere qui a rinnovare il giuramento che quasi mille anni fa i rappresentanti dei liberi comuni del nord che fondarono la Lega Lombarda fecero qui contro quello che allora era un nemico chiaro, l'imperatore, il barbarossa, chi voleva privare queste terre della propria autonomia, della propria indipendenza, della propria libertà. E perché è importante oggi essere qui, come quasi mille anni fa? Oggi abbiamo dei nemici diversi, oggi non abbiamo un impero che si fa riconoscere, che si fa vedere, che è semplice da indicare, non abbiamo il barbarossa contro cui combattere. Ma oggi c'è un grande nemico, più insidioso, che è quello della grande finanza, del grande capitale, che sta cercando di distruggere il nostro stile di vita, la nostra Europa per come la conosciamo e la nostra indipendenza, la nostra libertà sul nostro territorio. Vedete, ci stanno cercando di convincere che se le cose vanno male in Europa, in Italia, nel nostro Paese, la colpa è nostra. Stanno cercando di convincerci che il problema di questo Paese è che non siamo più competitivi, che abbiamo disimparato a lavorare, che i nostri artigiani, le nostre imprese non sono più capaci a fare quello che hanno sempre saputo fare meglio di tutti gli altri in Europa e nel mondo. Ci stanno convincendo che non dobbiamo cercare di migliorare il mondo liberando dalla schiavitù quei popoli dove i lavoratori lavorano 20 ore al giorno per una ciotola di riso senza diritti, ma ci stanno dicendo che il progresso significa che noi dobbiamo diventare come loro. Questo è quello che sta succedendo, questo è quello che vogliono. Lo stiamo vedendo in Grecia, sicuramente la Grecia ha fatto degli errori, ma ci stanno dicendo che la sanità pubblica è un lusso che non ci possiamo più permettere, che chi se ne frega se in Grecia il tasso di mortalità dei bambini è aumentato oltremodo. Non importa, l'unica cosa che importa è ripagare le banche tedesche che hanno finanziato quel Paese. Siamo passati dalla culla della civiltà, dall'Europa dei diritti, dall'Europa in cui i cittadini potevano esprimere liberamente la propria persona e avere un futuro a un'Europa che mette il capitale, la finanza e i poteri non chiari soprattutto. E sono poteri talmente forti che sono più forti anche delle democrazie. L'abbiamo visto in Italia. Prima Monti, poi Letta, poi Renzi. Ci impongono dei governanti senza nemmeno farci fare la fatica di scegliere e di votarli. L'importante è che chi va al potere esegua quelli che sono gli ordini del grande capitale e quelli che sono gli ordini della grande finanza. Affamare i popoli, affamare i popoli, colpevolizzare i popoli, schiavizzarci, rendere noi terzo mondo invece che occuparsi di migliorare chi sta peggio. Ci vogliono convincere che è giusto che arrivino in questo Paese 200.000 clandestini ogni anno perché c'è bisogno di mano d'opera, ma non importa se altrettanti giovani, non solo del Sud ma anche nel Nord, del profondo Nord, laureati e qualificati ogni anno abbandonano l'Italia e la Padagna per andare loro sì a fare in Europa i lavori che i giovani europei non vogliono più fare, ma ci dicono che abbiamo bisogno di mano d'opera, ci dicono che abbiamo bisogno di occupazione, che dobbiamo dare lavoro, che le nostre fabbriche hanno bisogno di queste persone, fottendosene dei 200.000 giovani italiani e padani che ogni anno abbandonano il nostro Paese. Ci dicono che i giovani non possono più mettere su famiglia perché ci dicono che cosa serve, cosa importa, intanto ci pensano i nuovi arrivati a fare figli, l'hanno detto in televisione, lo dicono in maniera chiara, ci dicono che questo è un Paese senza futuro, ma del resto ci hanno anche detto che un'anzianità serena, la pensione, è anche quello un lusso che non ci possiamo più permettere, perché chi ci governa oggi è chi ha votato l'infame riforma Fornero, che ha privato del diritto al futuro la mia generazione e ha privato della serenità chi ha qualche anno in più ha lavorato una vita e si è spaccato la schiena dicendo che è un privilegio la pensione, pezzi di merda, non è un privilegio, non è un privilegio. Da questo prato mille anni fa è partita la civiltà, è partita la democrazia, è partita la lotta per un'Europa più giusta e oggi, dopo quasi mille anni, siamo ancora qui a dire che noi non ci arrendiamo, che noi da qui non ci muoviamo, che noi non rinunceremo a tutto quello che i nostri avi hanno conquistato per rassegnarci a un futuro di miseria e povertà dove i pochi che detengono il capitale e manovrono la finanza comandano e tutti gli altri sono sudditi. Questo significa essere oggi a Pontida, credere nel futuro, ribellarsi, aprire gli occhi alla gente, fargli capire che la politica non può essere un'assegnazione, la politica non può essere esecuzione di cosa decidono gli altri. La politica e la Lega serve a cambiare le cose per farci stare meglio e per darci un futuro. Viva la Padagna!